Ritorna alla normalità la raccolta dei rifiuti nel comune di Scalea. I dipendenti dell'Avenire, dopo aver incrociato le braccia ed essersi raccolti in assemblea permanente, questa mattina hanno ripreso la raccolta a pieno ritmo e con un'ora di anticipo, per rimediare ai disagi creati nei giorni scorsi. Le immagini che vi stiamo mostrando risalgono a questa mattina. Obiettivo principale dei dipendenti è bonificare tutte le zone in cui i rifiuti colmavano i cassonetti fino all'orlo o addirittura erano sparsi in strada. Scalea infatti in soli due giorni di inattività si era già riempita di immondizia. La situazione dovrebbe tornare a breve alla normalità. Il comune di Scalea, come da accordi, questa mattina ha emesso il mandato di pagamento all'azienda. 110.000 euro fa sapere il vice sindaco di Scalea, Maurizio Ciancio, che abbiamo versato nelle casse dell'Avenire, che ora da parte sua dovrà procedere al pagamento delle retribuzioni di marzo e aprile. Dopo lo sciopero dei giorni scorsi in cui i dipendenti della ditta Avvenire SRL chiedevano il pagamento delle aspettanze arretrate, nella giornata di ieri dunque è arrivato l'ok da via Plinio il Vecchio. La buona notizia per gli operai addetti alla raccolta dei rifiuti arriva a margine dell'incontro tenutosi nel pomeriggio di ieri tra i responsabili della ditta e l'amministrazione comunale. Al tavolo delle trattative ha partecipato anche la CGL. Il sindacato ha ottenuto la regolarizzazione dei contratti dal 1 giugno con un inquadramento specifico per ogni settore. Nessuna novità infine sulle sorti della gestione del servizio di raccolta. L'Avenire ha confermato la cessione del ramo calabrese ad un'altra ditta a partire dal prossimo 18 giugno 2012. Intanto il Comune seguirà l'iter necessario per l'affidamento del servizio. Grazie a tutti.